Il cibo è una cosa meravigliosa che nutre e che però abbiamo capito che distrugge anche contemporaneamente nel senso che bisogna sapersi nutrire, quindi sicuramente è un luogo dove si possono incontrare grandissimi godimenti per il nostro palato però dall'altro lato bisogna essere in grado di gestirsi tra le cose che ci fan bene e ci fan male quindi bisogna avere maggior consapevolezza per mangiare, anche se la dieta mediterranea bisogna sempre difendere. Grazie